Gesù ci invita ad aprirci alle sorprese di Dio, a capire i segni dei tempi. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando le parole di Gesù ai dottori della legge. Il Papa ha esortato i fedeli a non rimanere attaccati alle proprie idee, ma a camminare con il Signore trovando sempre cose nuove. Perché questi dottori della legge non capivano i segni del tempo? E chiedevano una segnale straordinaria. Gesù vi l'ha data dopo. Perché non capivano? Prima di tutto perché erano chiusi. Erano chiusi nel suo sistema. Avevano sistemato la legge benissimo. Un capolavoro. Tutti gli ebrei sapevano che cosa si poteva fare, che cosa non si poteva fare, fino ad onde si poteva andare. Era tutto sistemato. E loro erano sicuri lì. Loro non capivano che Dio è il Dio delle sorprese. Che l'Io è sempre nuovo. Mai rinnega a se stesso. Mai dice che quello che aveva detto era sbagliato. Mai. Ma ci sorprende sempre. Questo deve farci pensare. Io sono attaccato alle mie cose, alle mie idee, chiuso? O sono aperto al Dio delle sorprese? Sono una persona ferma o una persona che cammina? Io credo in Gesù Cristo? Ma in Gesù quello che ha fatto è morto, risorto, è finita la storia. O credo che il cammino va avanti verso la maturità, verso la manifestazione di gloria del Signore. Io sono capace di capire i segni dei tempi, essere fedele alla voce del Signore che si manifesta in essi. Queste domande possiamo farle oggi per noi e chiedere al Signore un cuore che ami la legge, perché è la legge di Dio. che ami anche le sorprese di Dio e che sappia che questa legge santa non è il fine in sé stessa. che è la legge di Dio